Musica Noi siamo contentissimi di questa partecipazione dei giovani e l'occasione per noi per poter camminare accanto a loro non è una prova dei giovani ma è una prova per noi per poter essere giovani e continuare ad essere giovani e come dice il Papa, una chiesa che cammina rimane giovane e quindi è il nostro desiderio camminare accanto a questi ragazzi anzi più che un desiderio è un onore oggi fare questo Ci siamo? Ci siamo Siamo saliti in questa grotta dove da più di 15 secoli salgono i pellegrini bisognosi della Divina Misericordia perché proprio qui San Michele Arcangelo consegnò a San Lorenzo un messaggio salvifico dove si apre la grotta lì saranno perdonati i peccati degli uomini il cammino che farete è un cammino penitenziale cammino del perdono del Gargano durante il percorso verrà portata la spada simbolo della presenza di San Michele che si pone al nostro fianco per difenderci per proteggerci per aiutarci ad amare sempre di più il Signore guardando la spada vediamo proprio questa parola che deve diventare spada per separare il bene dal male per allontanare ogni tipo di insidia che ci potesse allontanare da Dio ma innanzitutto siamo davvero felici di essere riusciti anche quest'anno ad organizzare questo cammino questo pellegrinaggio che unisce due luoghi dello Spirito Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo e mi pare che il tema sia anche un po' più forte perché si tratta di combattere il male con il bene e solo avendo questa grande capacità di combattere il male con il bene sicuramente avremo delle possibilità per vincerlo perché la nostra forza è Gesù Cristo e la verità è il bene il vero bene, il sommo bene quindi non possiamo non vincere il male se stiamo con Lui Voi partite adesso per un pellegrinaggio da un santuario arriverete a un altro santuario la cosa che è evidente è che voi avete una meta certa quindi si parte per arrivare c'è una strada da percorrere e noi andiamo a fare questa cosa la facciamo perché siamo convinti di fare qualcosa di buono Pensavo, pensando a questo tragitto vostro alla differenza che c'è stata tra un pellegrino e un vagabondo in fondo sembrano uguali se voi li incontrate in una città, un pellegrino e un vagabondo sono due persone fuori casa che stanno camminando non hanno una casa forse passeranno la notte così alla ghiaccia insomma, qual è la differenza? la differenza è che uno ha una meta da raggiungere l'altra la meta non ce l'ha e quindi perde tempo si parte ci si sveglia la mattina senza sapere che cosa fare si nasce e non sappiamo perché siamo nati si va verso la morte e non sappiamo che cosa ci attende facciamo finta di ingannarci facciamo finta di perdere tempo fatto sta che tutte le volte che battezzo un bambino dico sempre la stessa cosa io di questo bambino non faccio niente può arrivare a 100 anni potrebbe fermarsi molto prima sarà la gioia dei genitori sarà un santo sarà un criminale sarà un totorriina sarà un San Giuseppe Moscati sarà un Adolf Hitler o sarà invece un padrevio da Pietrelcina non sappiamo niente sarà lui ad accompagnare i genitori al Campo Santo o saranno i genitori ad accompagnare lui al Campo Santo l'unica cosa che sappiamo di questo bambino è che un giorno morirà ora tutto questo mi sembra una cosa da niente invece non lo è guardate perché c'è poco da fare se cambia una volta solamente mi dice guarda rischiare di non fare centro veramente sarebbe una pena proprio rischiare di non fare centro sarebbe veramente una pena questo è un lusso che non ci possiamo permettere allora io volendo andare sul sicuro ho detto ma che faccio? vado a parlare là con tutti questi ragazzi questi giovani insomma e mi sono preso la lettera del Papa ai giovani scusate la lettera che vado a rubare al Papa poi sapete che da inventare non c'è niente abbiamo un patrimonio di ricchezza di santità di magistero di teologia che non è che dobbiamo inventare niente sentite il Papa che cosa dice? vedete tre cose anzitutto voglio dire ad ognuno la prima verità il Papa ci dice una verità vediamo che Dio ti ama insomma guarda un po' e il Papa lo sa sentite bene se l'hai già sentito non importa io te lo voglio ripetere Dio ti ama perché può darsi che il fatto che noi l'abbiamo già sentito non ci rendiamo conto di che cosa voglia significare che Dio mi ama Dio ti ama Dio mi ama non dubitarne mai qualunque cosa ti accada nella vita non dubitare mai mai neanche quando stai nel peccato più nero Dio ti ama per favore se avete una penna scrivete la penna dopo la mano come quando fai l'esame vi ricordate? no Dio mi ama poi da qua fino a quando arriveremo a San Giovanni Rotonda ce lo leggiamo tante volte seconda verità c'è la seconda verità qual è? la seconda verità è che Cristo per amore ha dato se stesso avendo amato i suoi li amò sino alla fine Cristo è morto per me sentite non lo dite più non lo diciamo più Cristo è morto per noi Cristo è morto non lo diciamo non lo diciamo il Papa arriverà a dire non esiste la gioventù esiste tu come ti chiamano? tu che ha barbo e che ha baffo come ti chiamano? Michelangelo Michelà non esiste la gioventù esiste Michelangelo con questo barbo con questo baffo con questo il lento con questo DNA con quel papà con quella mamma con la tua storia è la nostra storia capiti o no? seconda verità dice il Papa allora prima Dio ti ama seconda verità Cristo è morto per te cioè sempre la penna in mano scrivi a sotto secondo è Cristo è morto per te e poi te lo ripeterai da qua fino a quando arriverai a San Giovanni Cristo è morto per me non per l'umanità Michelà non per l'umanità lascia stare l'umanità stasera diventeremo egoisti tutti quanti Cristo è morto per me per me Maurizio Patricio per me per te ma vi rendete conto di quello che significa provate a leggere in questa chiave in questa luce che cosa succede quando una nave sta da giorni e giorni in mezzo al mare e si dice no non dovete scendere provate a leggere in questa luce qua provate a leggere in questa luce qua non mi rendo conto attenzione forse forse ho già sbagliato perché questa è una cosa ma io ho già sbagliato provate provate a leggere in questa luce che significa quando Papa Francesco dice è tutto quello che gettiamo nel bidone dell'immondizia prima l'abbiamo rubato ai poveri e poi l'abbiamo gettato nel bidone dell'immondizia terza verità qual è sarà questa terza verità allora Dio mi ama Cristo è morto per me terza verità sentite il Papa che dice c'è però una terza verità che è inseparabile dalle precedenti e qual è Cristo vive ma guarda un po' sembrava che il Papa ci dovesse dire chissà qualcosa dice delle cose che noi Cristo vive ma voi pensate che sia signor sindaco lei pensa che sia una verità scontata ma siamo mai andati a letta dicendo Cristo vive vive accanto a me vive dentro di me io stamattina ho celebrato ho fatto la comunione stasera dovremo celebrare ancora Cristo vive non sono più io che vivo ma Cristo che vive in me noi che abbiamo ricevuto il battesimo la cresima il sacramento dell'ordine del matrimonio no Cristo io sono diventato la casa dello Spirito Santo la casa la dimora ce le vogliamo ripetere allora pegiamo sempre la penna in mezza mano e mi che la vai scriviamo la terza verità Cristo vive sentite bene occorre dice il Papa ricordarlo spesso perché corriamo il rischio di prendere di Gesù Cristo di prendere Gesù Cristo solo come un buon esempio del passato forse questo errore padre l'ha fatto pure no dobbiamo l'imitazione di Cristo dobbiamo se mancherebbe altro ma Cristo vive non è un ricordo come qualcuno che ci ha salvato duemila anni fa questo dice Francesco non ci servirebbe a nulla non ci servirebbe a nulla ci lascerebbe uguali a prima non ci libererebbe colui che ci colma della sua grazia colui che ci libera colui che ci trasforma colui che ci guarisce colui che ci conforta è vivo vive egli è la nostra speranza egli è la più bella giovinezza di questo mondo tutto ciò che lui tocca diventa giovane ci aspetta un lungo cammino sono una norefice del sangue di Cristo e per me essenzialmente questo percorso è un percorso verso l'interiorità verso il centro che non lo deve essere e lo sto vivendo con la preghiera e come impegno di pregare per tutte le persone che me lo hanno chiesto in questo pellegrinaggio in questa giornata che stiamo percorrendo questo cammino fino a San Giovanni d'Occosio spero che questo momento sia un momento veramente di preghiera soprattutto per tutti i giovani più adolescenti il momento in cui riflettiamo cosa vuole il signore Grazie a tutti. Bellissimo, grazie. Senz'altro la facciamo. Siamo molto bellissimi. La prima volta che vengo a questo pellegrinaggio al Verdono del Dabiano e faccio questo pellegrinaggio per la mia famiglia, soprattutto per le mie figlie che stanno fuori, che stanno fuori. Lo faccio per il Signore e per San Michele. Oggi è una bellissima giornata e diciamo che il Signore ci accompagna, ci sarà ancora un po' di strada, però va bene così. E tutto questo finirà con un abbraccio. Sto facendo questo viaggio che porterà il santuario della Madonna delle Grazie e speriamo che andasse sempre tutto bene. E vi incoraggiavo i giovani che il prossimo anno di farlo anche a voi. Ciao. Le tre cose sulle quali rifletteremo lungo la strada. Dio mi ama, Cristo è morto per me, Cristo vive e vive in me. Facile non è perdonare, ma è l'unica cosa. L'amore non è una cosa che si può insegnare, ma è la cosa più importante da imparare. Al di fuori della misericordia di Dio non c'è nessun'altra fonte di speranza per gli esseri umani. Quindi oggi sta la misericordia. Guardate, siamo obbligati, siamo in un piccolo circo. Vi ricordate Riccardo di San Vittore? Signore, se ci siamo ingannati vuol dire che ci hai ingannati tu. Per questa strada ci hai messo tu, sei tu. E alla fine abbiamo tutto da guadagnare. E' la mia prima volta che vengo qui e mi sono venuto con il cuore a pregare per stare insieme agli altri. La ricchiamo in più. Una nuova avventura. E' per te che sono aperti gli alberi, gli arroba e fiocchi in maternità. E' per te che il sole buce al mondo. E' per te dentro questa città. E' per te che sono bianchi e ruoli. L'acqua non va buona. E' per te il 13 dicembre. E' per te la campanella scuola. E' per te. Il resto dolce e soave però mi è rimasto solo quello più pesante. E' per te però devo dire che in realtà c'è il nostro cuore più pesante. Vabbè però è la vita. Ogni tanto per ti porti il peso maggiore e la tira un'altra volta per l'altra. Siamo qui per la prima volta in realtà dedicato questo cammino a mio fratello. che sta vivendo una battaglia difficile. Domani inizierà il ciclo di terapia importante. Quindi siamo qui a chiedere aiuto il signore di San Pielo al Cangelo. che possa meravigliare il suo percorso al Cangelo. Trovare il cammino. La meta la sappiamo qual è della nostra vita. Però purtroppo il nostro cammino non sempre lo troviamo. E quindi cerco di fare per il binancio per fare questa esperienza. Fare un cammino insieme con gli altri. Ad aiutare ho appena portato la spada. Con l'aiuto di San Michele. Che ci protegga sempre tutti quanti. La mia famiglia e chi ne ha bisogno soprattutto. Sai, è come quando uno possiede una cosa bella. La vuole regalare alla persona amata. Quindi io questa bella esperienza la regalo al Signore per i sacerdoti, per tutte le anime consagrate, per le vocazioni. Vogliamo pregare i primi e soprattutto prego per i giovani. Perché non smarriscano il senso della vita in quello vero. E da oggi cominciano quasi da battagli. Perché possiamo rimanere umani. Però umani che albergano il divino. Mi sento un pellegrino perché questa strada, soprattutto questa, ha avuto anche la grazia di vivere l'istante del passaggio accanto al Monsignore di San Michele per noi. Soprattutto di San Marco è una cosa che si è nata bene. Padre Pio ha segnato la storia del nostro Carcano, dei nostri comuni, di San Giovanni Rotondo, ma anche di San Marco e di San Marco. Quella vicinanza, vivere anche a Lombare di Padre Pio, ha significato tantissimo. E essere in questo territorio e avere avuto la fortuna di poter vivere in questa terra insana, in questa terra romea, in questa terra pellegrina, in terra in movimento, un movimento che porta sempre poi a una riscoperta della fede, è importante. L'esperienza è un po' difficile spiegare, bisogna chiederlo a San Michele per perdonare i miei peccati. Un camionare anche grazie con la spada che noi abbiamo venuto a Cangelo Cambrano, che ci accompagna sempre, è una presenza che è sempre molto vicina a noi e ci dà comunque la possibilità di affidarci completamente a Dio, semplicemente. Questa è la presenza dell'Arcangelo Cambrano nella nostra vita, nella nostra edina cristiana, è un qualcosa che è sempre presente. Non dobbiamo mai dimenticarci che Cristo, mostro per noi, risorto per noi, ha come anche garante non solo la Vergine Maria, ma l'Arcangelo Cambrano. Questa è quella, quindi un pellegrinare è un camminare insieme con lui. Questa è la prima volta. Grazie. Una bellissima esperienza da ripetere, sicuramente. Una bellissima esperienza da ripetere, sicuramente. Questa è la prima volta. Una bellissima esperienza. Questa è la prima volta. l'offerta dei fatti da cucini di San Giovanni Rotondo e sperimentiamo la preghiera di si fa cammino che dal cuore arriva alle gambe e mette in modo tutto il corpo. Vi consiglio di farla, se avete la possibilità, alla prossima. Siamo in diretta a Facebook, tra Nicola? Più morti che vivi, però soddisfatti, felici. Quindi? Ora? Quindi siamo quasi arrivati e quest'anno abbiamo vissuto almeno la prima parte del cammino penitenziale per prepararci a vivere con la gioia del cuore questa indulgenza plenaria nel ricordo anche di San Giovanni Paolo II nell'anno in cui ricordiamo i cento anni dalla sua nascita e questo è un valore aggiunto che ci dà la possibilità di ringraziare il Signore e delle cose belle che fa attraverso i Suoi Santi, in questo caso Padre Pio e Giovanni Paolo II. Sulla soglia di questa piccola chiesa vi accolgo e vi do il benvenuto carissimi pellegrini. Siete partiti dall'antichissimo santuario di San Michele Arcangelo per giungere in questo luogo santo che custodisce l'antica e venerata icona della Madonna delle Grazie, insieme alla memoria della vita santa di Padre Pio da Pietrelcino. per privilegio della santa chiesa è possibile lucrare l'indulgenza plenaria in questa chiesa soprattutto nel giorno solenne della sua dedicazione. il cammino penitenziale l'avete compiuto, ora insieme diremo le preghiere indicate dalla chiesa, poi entrerete all'interno per un devoto saluto alla Vergine Maria, sarete unti con olio di nardo, per ricordare quelle tre verità su cui avete riflettuto lungo il cammino, Dio mi ama, Gesù Cristo è morto per me, Gesù vive ed è accanto a me. e poi concluderete il tutto con la celebrazione eucaristica, e allora carissimi, con le giuste disposizioni diciamo insieme, credo in un solo Dio, Padre Onnipotente. grazie a tutti